Qual è la chiusura ufficiale della procedura? Il 0,5% del PIL lo mettiamo subito su ABCD, invece questo margine lo abbiamo già utilizzato per dare fiato alle imprese che sono in estrema difficoltà a causa del credit crunch. Trovare quindi delle risorse immediate da mobilizzare in più sul 2013 è un tema molto complicato, tanto più quando il governo si è impegnato per esempio alla riforma dell'Imu e ad altri aspetti. Quindi io in questo momento non le posso dare nessuna indicazione anche perché come ho detto è una riflessione complessiva e vorrei ricordare che nel passato vari governi hanno fatto la tipica manovra di giugno aumentando le imposte. Questo governo ha trovato le risorse per la cassa integrazione senza aumentare le imposte, quindi non ha operato in questo modo. Dopodiché il tema del riorientamento di spesa dalla spesa corrente alla spesa in conto capitale è verissimo. Se continueranno i tassi di interesse bassi, grazie alla credibilità, questo aprirà eventualmente altri spazi che decideremo come utilizzare.